Volevo farvi gli auguri di buone feste e felice anno nuovo e con l'anno nuovo introdurre una novità cioè gli abbonamenti al prezzo di 5 euro al mese. Comunque ci ho pensato molto e alla fine ho deciso di fare un'opzione unica quella minima poi vedremo come va al limite si può sempre togliere o al limite aggiungere altre opzioni. Siccome molti di voi mi chiedono alcune informazioni su Venezia o vogliono un contatto più diretto magari per incontrarci a Venezia ho pensato di creare una community questo attraverso un canale telegram che ho già creato. Iscrivendovi oltre a contribuire alla crescita del canale offrimmi due caffè al mese potrete entrare in questo canale e parlare con me di qualsiasi cosa che abbia attinenza con Venezia o magari se venite a Venezia magari incontrarci mettersi d'accordo creare una community qualcosa insieme. Questa novità potrebbe essere un'occasione per avere nuovi input per me se avete idee ristoranti chiese qualche itinerario particolare che volete scoprire. Non fate altro che dirmelo e io cercherò di venirvi in conto di fare nuovi video. Io con questa cosa cercherò di fare video un attimino più importanti magari più ristoranti e rientrare un attimino delle spese. Uno dei miei sogni sarebbe farvi vedere Venezia dall'alto con l'elicottero però spero di arrivarci. Io comunque continuerò a fare i miei video e l'abbonamento potrà essere tolto quando vorrete insomma per cui è solo una cosa in più. Sta a voi. Alla prossima. Alla prossima.